Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics, benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi, bomber di ottobre, è uscito il 30, stiamo registrando in realtà il 30, quindi proprio oggi Non so quando lo vedrete, vedremo di mettervelo comunque presto perché è un video che vogliamo far uscire subito E il bomber di ottobre con due limited edition che servono per il nostro set A tal proposito, la minicex in questo momento farebbe molto comodo E da qualche parte ragazzi, l'abbiamo smarrita E la recuperiamo, vamos, ok, eccola qua Allora, è stata aggiornata Recap, ah l'hai aggiornata tu? Sì, no, l'hai aggiornata Recap, Scabiasso, Maldini e Piero li abbiamo trovati Ah, non li ho segnati questi, scusate Ho aggiornato per tutto il resto In ogni caso, queste le abbiamo trovate tutte quante Le vorremmo firmate, ma abbiamo finito il set delle busine premium Qui è tutto finito, qui è tutto finito E quindi i due bomber di ottobre ci mancano soltanto le due di novembre Politano e Gabbardini E poi il set dell'illimited completato Quindi direi che possiamo essere soddisfatti Manita, vuoi aprire tu il bomber? Ma sì, ci posso provare Potrei aprirlo col taglierino magico per l'apertura Per facilitarne l'apertura Che ne pensate? Anche se si apre molto facilmente questa bus Un po' di ASMR non basta noi Oh, ah Attenzione Bella vittura No, un angolino qui non si è aperto ancora Ok, ora si è aperto Bomber di ottobre E abbiamo E dopo ci guardiamo le limite Dai, sfogliamo rapidamente Ok Oh, c'è un'intervista a Riccardo Sottili in esclusiva Allora, vediamo un po' Mentre noi lo sfogliamo rapido Se lo volete ragazzi Il prezzo è 4,90 Yes Allora Qui il focus su cosa fanno Oltre la vita ovviamente sul campo I giocatori Le maglie Questa quanto la vorrei Per dirlo Se mi fate pure quella del Venezia Potrei sentirmi male Se ci regalate una maglietta ragazzi Saremo moltissimi Le maglie più bizzarre Sì Sono almeno 10 persone che vorrebbero questo poster E ovviamente pubblicità Perché il 17 novembre Due bustine e due limited Quindi tanta tanta Molto molto bene Ok Le due bustine e le due limited Sono qui Allora, allora Le limite abbiamo detto Sono Ruiz Patricio E l'altro Lo sono perso E l'altro è È bugare ragazzi È fortissimo ragazzi 90 di controllo Non per niente No, veramente È un giocatore pazzesco Pazzesco Vedetevi qualche video skills È fortissimo Mamma mia Era del Chelsea Il Chelsea mi ha fatto scappare Un talento assurdo Anche Ruiz Patricio è buono Vabbè Lì vedete che Niente servivano Vedo una cosa rossa Eh, stavo guardando L'errore nella foto Mi sembra che è il colletto Ma dove? Sì, sì, sì C'è anche Sì, sì È il colletto Perché c'è anche nella foto Pensavo fosse un errore Eh, no Stavo notando anch'io Due limited Ottime per Ovviamente Completare il set Due pacchetti Ma interdiremo con altri pacchetti Allora Vabbè Vai tu vale, dai Allora Vediamo un po' Di solito Questi Questi pacchetti Non sono No Chissà che No Però hanno la zigrinatura Delle plus Andate a vedere il video Con Dibala Top player plus Per capire In cui spieghiamo La storia della zigrinatura Vediamo un po' Se questa teoria è confermata Ma credo di sì Anche perché 30 ottobre Per incentivare l'acquisto Di questo prodotto Sicuramente avranno messo le plus Voglio sperare Speriamo Speriamo Ci di pensare insuperabile Dai Panini Non deludermi Eh no Penso Penso proprio che non sia Non deludermi Rado Parte male Eh vabbè Fa niente Niente Tutte card base Tra l'altro mi sa Tutte doppie Come Mario Rui Mario Rui Mario Rui forse Forse Ma non credo Però vediamo Ma sai di video Bussia Quasi non l'aprirei Con il fatto che Dice campione Non ti sia travenita Ma noi ragazzi Fa niente Le bustine sono fatte Per essere aperte Lo abbiamo Lo abbiamo Ancora Rado Non due pacchetti gemelli Perché veramente no Ok di Lorenzo Cagli con Mario Rui No 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 Capita molto molto spesso Con i bomber Questa cosa No questa cosa Non mi piace Dovete fare più attenzione Ragazzi Perché Perché dovete fare attenzione Qualcuno Spere 5 euro Questo prodotto Vuole due pacchetti Belli Fighi Manita Tu non hai aperto il pacchetto No Apre un pacchetto Di questo Facciamogli vedere Come si apre un pacchetto Cioè cosa ci deve essere Dentro un pacchetto Vai Ora provo gli stessi Trovaci la card Invincibile Ricordiamo che Questi sono pacchetti Non plus Del box da 50 Quello in cui abbiamo trovato Maldini Quindi il secondo box Da 50 pacchetti Che vi avete visto Ovviamente sul canale Ok vi dico Si deve trovare modulo In un pacchetto Per essere buono Ok no Poi Parisi Capradossi Non l'abbiamo mai trovato Credo sia mancante Effettivamente 2-9-3 Poi Ziegler Regola dei perati Dell'Udinese Ovviamente Sempre presente 2-9-3 manca E anche 3-3-2 mi sa No l'ho trovato Poi abbiamo Come rara Joaquin Correa Tuttocampista E Kalinic Ragazzi Del Las Verona Piccolo dettaglio Mi sa che ragazzi Voi quando vedete L'apertura del bomber Ancora non avete mai visto Un'apertura di questo box da 50 Eh si Perché voi dovete sapere Che ci sono degli sfasamenti temporali Nell'uscita dei video Che sono delle cose incredibili Può essere Probabilmente non avrete ancora mai visto Neanche un'apertura L plus Si Vedremo vedremo Poi vedremo la programmazione Insomma ragazzi Prima o poi esce tutto sul canale Quindi è solo questione di tempo Andiamo con un altro pacchetto Sì direi di sì C'è il tempo Ma sì Ma sì Abbiamo ancora un sacco di pacchetti da aprire Cioè quel box è appena a metà Allora Però niente Non eseguci le plus Spesso Sono tutte doppie qui Eh però Abbiamo ancora un bel po' di card base Da trovare Forse Abbiamo trovato un sold player in quel box Se non erro Sì E quindi ne manca un altro Intanto Forse Intanto qui Tutte doppie Mamma mia Eh vabbè Dezi Dezi Giuric Giuric De la Sernitana Il fratello di Giuric Mi dice un attimo il 9 117 Ma non lo so Penso che dopo Probabile Vediamo così tanti giocatori Eh infatti è difficile comunque ricordare Molto difficile sì Infatti lo abbiamo Va bene Last pack Della manita magica Eh ragazzi Le speranze Le speranze Le speranze di trattato player Sono tutte quante Nelle mie mani Voglio la card invincibile È vero La card invincibile Nella mia manita Ancora non ho mai idea Di come sia fatta Dai 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 Card invincibile Card invincibile a me Dai Ce la faremo Ce la faremo Non sarebbe bello Una bella card invincibile Dubito ma Strieger Larsen Ok Dix E inutile Chiellini Anche l'unità Teber Ti ho trovato due milioni di volte Lazzari E Mamma mia Ma è un pa Ma è un pa Niente ragazzi Finiamo per i suoi Non ho trovato nulla interessante Che cosa è triste È stato abbastanza deludente Vabbè ci salvavano le due limit Bella le limited Trovate nel bomber Le limited ragazzi Se volete fare l'album seriamente Vanno prese Perché ovviamente Fanno parte del set Assolutamente Boga e Rui Patricio Ragazzi che dire Se il video è piaciuto Lasciatemi un video Qui sotto Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto E seguiteci su Instagram Beh da Parola Malcomics è tutto Ci vediamo alla prossima Bella